Mi chiamo Frank Giacone, sono nato e cresciuto in Inghilterra dove ho iniziato la mia professione di parrucchiere e tanti anni fa ho deciso di venire a vivere in Maremma Toscana dove ho un salone con il mio figlio alle Terme di Satunia, all'hotel Terme di Satunia. La cosa importante che noi trasmettiamo è questa natura, questa bellezza dove combascia la Toscana, la moda, la natura, vediamo di lavorare con i prodotti naturali che prendiamo dalla terra e vediamo di portarli anche nel trattamento dei capelli. Oggi la donna vuole, sì vogliamo, abbiamo questa sensibilità a livello ecologico, salvaguarda per la terra e questi due corsi fra moda e natura prima non si combasciavano e noi invece in quest'ambiente che è la Toscana vediamo di mettere queste due cose insieme. Noi lavoriamo su estratti naturali che mettiamo degli impacchi particolari che potrebbe essere il miele, lo yogurt insieme a un enne neutro, insieme a degli estratti di olivi, oli essenziali, però vediamo di usare solo estratti e prodotti del territorio, sempre un 100% naturale, biologico, perché vogliamo prendere dalla terra e lo vogliamo anche ridare alla terra, è come noi prestiamo dalla terra, però bisogna anche ridarglielo come lei ci ha dato, se non meglio. E questo è il nostro cammino, è il nostro diciamo know-how, è quello che vogliamo interpretare e dare a voi, ai nostri clienti. Credo che ognuno di noi dobbiamo pensare un po' alla terra, a dare alla natura questa meravigliosa vita che ci offre la terra.